C'è un'altra parte. eternità. Se tu potessi vedere capiresti perché. Temo che non sia possibile. Continua a parlare. Mi aiuta a occupare la mente. Raccontami di te prima che ti ammalassi. Gli affari andavano bene. Avevo clienti in tutta la costa di Fartac. La mia famiglia è raciata. Felice. Poi il Tarkat. Si è preso mia moglie e poi i miei figli. Io sono condannato a vivere per ora. Mentre si diverte a dilaniare il mio corpo lentamente. Che postumi. Kanshi. Maledizione. Fa tanto male. Un male atroce. Mi hai salvato. Non lo dimenticherò. Tuttavia potresti rimpiangerlo. Che cosa... Ma che diavolo... Da quando è che siamo finiti sul set di un film horror? È il vero laboratorio di Shang Tsung. Siamo sotto al luogo di prima. Quella era solo una facciata. Mi ricorda quel film da quattro soldi che girai agli esordi. Le fosse di carne. Davvero inguardabile. Quello chi è? È la guardia! come sta? Beh, gli hanno cavato gli occhi. Che dici? ecco, tieni, per il dolore. È da infami accettare tutto ciò. Siete prigioniere di Shang Tsung. Egli è il mio padrone. Ha la mia famiglia. La ucciderà se disobbedisco. Per creare sei tu te. Per imparare... come mutare forma. L'hai imparato da te. E l'abbiamo visto fare. È davvero incredibile. Come funziona? Puoi assumere tutte le forme che desideri. Posso solo passare da questa alla mia forma originaria. come funziona? Come funziona? e i vostri organi assemblati per generare nuove creature. Naturalmente la procedura è letale. Liukang te la farà pagare cara, vedrai. presumendo che venga conoscenza dell'accaduto. Ma quando avrò finito, di voi non sarà rimasta alcuna traccia. Tornerò a breve per monitorare i progressi. Adesso devo occuparmi di alcune faccende. non sei costretto a farlo. La scelta è tra voi o la mia famiglia. tu. la scelta è la scelta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Farò più parte di nessuno dei tuoi maledetti esperimenti, dillo Shang Tsung. Ah, quello stregone. Mi ha rovinato alla... Ah, forse ho capito chi è questo qua. All'inizio della storia il buon Shang Tsung, travestito di... Con parrucca, eccetera, eccetera, stava vendendo delle cose. Ed io avevo acquistato da te qualche cosa per salvare mia figlia. Dopo che avevo somministrato la medicina che tu mi avevi dato, Shang Tsung, mia figlia morta. E poi tu mi hai catturato e mi hai tramutato in questo. Bastardo. Schifoso. Quanti cacchio di cloni ci sono. Bello! Johnny Wing e Kung Lao... No, non è Kung Lao. E Ken Schiporello, che sono là dentro la sella. Ma non temere, baracca qua, per salvarvi la vita. E state calmo. Ma quanti cacchio ce ne sono? Li devo ammazzare tutti io? Ah, è vero. C'è l'amico Kung Lao... Che faceva bene a non entrare. Quando entra Kung Lao io mi devo star fermo. Daio. Godicchio. Aio. Kung Lao. Penetra. E faccio vedere di che pasta è fatto. E la madonna, ma quanti cazzo ce ne sono? Chi è? Brutto schifoso. Brutto esperimento malcagato da Shang Tsung. Che si vede che io ancora ancora, vabbè, ma mi ha fatto ammalare e mi sta mangiando piano piano. Però questi qua sono già ad uno stato molto, molto più avanzato di malattia. E fate schifo, proprio fatevelo lì. Kung Lao. Come on. Aia. Mamma mia che combo! Non c'è nulla di più orribile. Hai parlato troppo presto, Fark. Super Tarkatan! Io credevo che fosse Myth. Dovebbe saltare fuori anche quello. Era da tanto che non lo vedevo. Ma tu chi cavolo sei? Sei il super mega esperimento di cui parlava Shang Tsung? Mamma mia è proprio fatto male, bruttissimo. È vero, è vero. Sembra un qualche strano alieno venuto da uno spazio molto, molto interstellare. Speriamo che non abbia felini addosso. Altrimenti roberebbero i coglioni e cagherebbero e piscerebbero dappertutto. Aia. C'è uno scappolo di futuro non richiesto. Aia. Venghi Kung Lao. Torcinelli tutto perché dobbiamo aiutare qua quelli là perché mi sa tanto che fanno una brutta fine perché sono collegati con la palla di elettricità. Non credo che siano cazzo di combo fatto. Madonna, hai capito Tarkatan qua? Mister Baraka. Basta con le distrazioni. Sono finito. Per questo Shang Tsung mi punirà, torturando la mia famiglia. La pagherai per quello che dovranno soffrire. E tu che diavolo sei per dirmi tutto ciò? Tu ti sei fatto scioggiare da Shang Tsung. Capisco che la tua famiglia è in pericolo, ma noi potremmo anche salvarla. Se solo tu ci libererai da questo maledetto... E miseria pro reptile. Con queste sbaffate verdi anche no. Fai anche leggermente schifo, eh? Caro zaterriano de merda. Ti farò tornare nel tuo maledetto posto antico. E da lì non uscirai più perché sei davvero bruttissimo. Se volendo sei bello adesso perché sei non nella tua forma reale. Oddio. Bello tutto verde. Ammazza, ma le combo che sto a fare con Mr. Tarkatan qua? Porca miseria. Mi imbaracca. Kung Lao entra anche tu. Grande amico di mille battaglie. Anche se ci siamo appena conosciuti, però vabbè. Fino a qua nel laboratorio mi stai dando una grossa mano. Minchia. Ce ne andiamo. Uccidetemi. Se muoio, forse risparmiare la mia famiglia. No. Io non ti ucciderò. Sarebbe un gesto di pietà. Anche se dopo quello che ho fatto non la merito. Stavi proteggendo la tua famiglia. Io avrei fatto lo stesso. Che cosa è successo qui? Saesot, razza di idiota. Hai lasciato che rovinassero tutto. Ce ne andiamo, fregone. E tu verrai con noi. Yookang vuole parlarti. Ma prima dovreste riuscire a prendere. Ho un brutto presentimento a riguardo. I miei saluti, cari signori. Rallegrati, Saesot. Finalmente potrai riabbracciare la tua famiglia. Sono morti. Li hai uccisi. Molto, molto tempo fa. Odio avere questioni in sospeso. Che cosa succede? Che è fuori uscito il gaso. La porta si è bloccata. Patrì vita patrì. Test your might. Oh! Che devo schietza? Pae! Certo che con tutti i tasti da schiazzare è proprio R2, eh? Che proprio è messo male come tasto. Ae! La! Ah! Veloci. Seguitemi. Di qua. Lasciatemi. Vi rallenterei soltanto. Cosa? Se Shang Tsung ti trova qui, ti ammazza. Guardami, Cage. Sono inutile. Ormai la mia vita non vale le vostre. Ehi, non puoi arrenderti. I Kaira contano su di te. Ricordi. Noi ti riporteremo a casa. E troveremo il modo di aiutarti. Intesi? Sì. Non fermiamoci. O ci prenderanno. Dobbiamo portare Kenshi al portale di Sundu. Posso portarvi fino alle porte della città. I Tarkata non sono ammessi all'interno. Vi porto io a destinazione. È il minimo che possa fare per voi. Questo posto sembra pianeta maledetto. Nel secondo tempo c'era una foresta... La scena della Manticora? Sì. È stato un vero delirio girarla. Ma è uscito un capolavoro. Me la ricordo perfettamente. Questa è la foresta vivente. Ma le foreste non sono tutte viventi? Ma non tutte. Hanno alberi che custodiscono le anime dei morti. Wow, aspetta. Dentro ci sono i fantasmi. Sì, ma non sono cattivi. Conoscete qualcuno qui dentro? Alcuni parenti alla lontana. Di certo non zatterrani. Perché no? Perché i sangue caldo non ci vogliono. Così ci siamo isolati nella provincia sotterranea di Zikandur. E come hai incontrato Shang Tsung? Poiché possa assumere forma umana, sono considerato un mostro tra la mia gente. Sono fuggito per il terrore. Infine mi sono unito a uno spettacolo itinerante. Ho scoperto che c'è chi è pronto a pagare per vedere il mio... ...dono. Allora Shang Tsung era solo un... ...imbonitore. Ci siamo incontrati e ha scoperto il mio dono. Quando ha iniziato a praticare la stregoneria voleva studiarmi. Al mio rifiuto ha preso la mia famiglia in ostaggio. Beh, un'offerta che non si può rifiutare. È pericoloso. Ha architettato un piano. Lui, il generale Shao e Rain, cospirono qualcosa. Che cosa vogliono? Non ne sono certo. Conosco solo alcuni dettagli. Conosco. Quang Chi ha mandato degli altri demoni? Ehi, noi non... Ogni morto in più tra voi mi avvicina alla mia soluzione. Spargere il vostro sangue mi avvicina di un passo alla luce. Ma tu chi diaio? Chi diavolo siete amici? Amici nella foresta, mi sentite? Aiuto, ditemi per favore se mi sentite, perché qua sono un po' nella merda. Chi diavolo sei tu? Soprattutto perché ci stavano ancora di Tarkatan in giro qua. Si vede che sono stati liberati dal Cristoforo Colombo. Reptile! Eh, vabbè, Reptile. Che cazzo ha fatto? Che ca... Reptile! Oh, madonna che se la piavo però al volo. Signorina Shra! Se questo è il suo nome... Chi cazzo è lei? Non l'ho presa, non l'ho presa. Grazie mille a tutti coloro che sono stati qua nella foresta vivente. Aia! Fatal Blow Second Time! Fermati! Uccidermi non assolverai i tuoi peccati! Vero! E soprattutto forse noi siamo dalla stessa parte. Noi siamo appena scappati dal laboratorio di Shang Tsung. E quindi se siamo scappati da lì vuol dire che... Come dire, eravamo incarcerati. Cara la signorina che vola con robe strane e ha spade che possono fare molto molto male. Chiunque tu sia, non siamo demoni! Se non siete demoni, chi siete? Lui è di Zaterra, io sono di Edenia. O almeno lo ero prima di contrarre il Tarkat. Dal regno esterno? Dovete perdonarmi. Sono felice di non avervi ferito in modo permanente. E questo che cos'è? Ah, non preoccuparti. Allora, chi è la nostra fan Fatal? Sono Ashra, demone del regno occulto. Demone? A me sembri umana. Più o meno. Cos'è un regno occulto? Ce lo hanno spiegato i monaci. Ma dormivi quando eri a lezione? Durante quella di sicuro. Ah, quel reame è un inferno. Sul serio. Non mi dire. La mia forma è quasi umana, perché ho purificato dal male gran parte della mia anima. Quando avrò finito, anche l'ultimo tratto del mio aspetto demoniaco verrà cancellato. Perché eri inseguita dai demoni? Sono stati inviati da Quan Chi, il mio ex padrone. Facevo parte della sorellanza dell'ombra. Lui desiderava, e in realtà ancora vuole, imporre il suo dominio sui regni. Ma ho disertato quando ho capito che non potevo aiutarlo a distruggerli. E quindi adesso lui ti vuole morta? Precisamente. Ho lasciato il regno occulto per seguire Quan Chi. Sta progettando dei dispositivi in grado di rubare le anime in massa. Testerà il primo prototipo sui morti che risiedono nella foresta. Perché vuole rubare anime, Ashwa? Per il loro potere. Non so quale sia il suo scopo, ma so per certo che è in combutta con un altro potente stregone. Shang Tsung. Dannazione! Quel tizio è ovunque. Sei sicura che Quan Chi sia qui? Il mio Chris lo percepisce. È qui vicino. No, no. Tu vieni a casa. Abbiamo una missione. Quan Chi può condurci da Shang Tsung. Il vostro Liu Kang ha ragione. Shang Tsung è pericoloso e va eliminato. E io ti aiuterò. E anch'io. Temo abbiano vinto il sì. Mozione approvata. Ashwa, facci strada. Quan Chi è qui dici. Le emanazioni maligne si stanno intensificando. Quella è un'arma potente. Ed è una perfetta alleata. Lei si occupa di trovare il maligno per me? Io lo elimino e mi purifico. Ok, capisco. E sono a favore dell'autoaiuto. Ma perché una demone dovrebbe desiderare di essere meno malvagia? Ho passato un'eternità da dannata nel regno occulto. Arrivando a pensare che fosse l'unica vita possibile. Poi ho visitato il regno della terra e il regno esterno. Ho visto un modo migliore di vivere. Ma per poterlo ottenere, prima mi devo purificare. Le mie sorelle si sono infuriate per il mio tradimento. Chi è Jataka mi hanno immediatamente dato la caccia. Anche Quan Chi è un demone? In realtà, lui è un esterno. Ma ha preso le arti della magia oscura che sono necessarie a raggiungere il mio regno. Sai per quale motivo hai incombuta con Shang Tsung? Hanno una benefattrice comune che li ha strappati all'oscurità e insegnato ciò che sanno. Non l'ho incontrata. Ma è fuori di dubbio che sia una strega dotata di un potere eccezionale. Quan Chi è molto vicino. Sono pronto per il vostro contributo. Davvero eccellente, Nitara. Ma mi occorre anche il tuo. Io e Darius ci abbiamo pensato, signore. Non cercare nemmeno di ritrattare, Avok. Vogliamo la garanzia che farai come dici. Ha mantenuto la parola data ai veternani di Nitara. Ecco la tua garanzia. Sarina ha ragione. Grazie alla magia di Quan Chi, ora la mia gente non deve più temere la luce del sole. Finalmente siamo usciti dall'oscurità. Puoi stare tranquillo. Avrete sortilegi che faranno cadere il governo del Regno dell'Ordine. E quando li riceveremo, Quan Chi? Dopo l'attacco al Regno della Terra. E sarà lanciato solamente se dimostreremo per tempo l'efficacia del rubale. Bene, bene, la trama si infittisce. Il Regno della Terra è in pericolo. Ogni rubani ne miete centinaia di migliaia di vittime. Se ne schierasse un'intera batteria... Moriranno a milioni. Dobbiamo fermarli. Mi occupo io di Quan Chi. Voi quattro, invece, occupatevi degli altri. Ehi, fermo, amico. Tu non andrai da nessuna parte. Hai sentito? Moriranno a milioni. E proprio per questo non puoi intralciare la nostra azione. Ora... dammi la spada. Perché? Dammela e basta. Cosa? Non posso. Non sei... Hai salvato la mia vita. È tua. Cosa? Grazie a tutti.